Polemiche per la mancanza del numero legale per la seduta del Consiglio Comunale di Rimini nella quale avrebbero dovuto parlare i sanitari sospesi perché non vaccinati, decisiva l'assenza della maggioranza. Redditi sproporzionati, sequestrato il patrimonio di 50 anni di attività criminale appartenente a un 71enne residente a Saludecio, ad eseguire il provvedimento l'anticrimine della questura. Spaventosi incidenti a Bellaria, con due auto coinvolte, una delle quali finite in un fossato, tre feriti di cui uno in gravi condizioni. Iniziati ieri festeggiamenti per il centenario di Riccione con l'inaugurazione della Sala Gran Turismo con la performance di Stefano Massini e domani apre la mostra con gli scatti di Pico. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Carotti G. Partiamo da un caso che sta facendo discutere. Niente numero legale ieri per la seduta del Consiglio Comunale di Rimini, nella quale avrebbero dovuto parlare i sanitari sospesi per non essersi vaccinati contro il Covid. Decisiva l'assenza della maggioranza, ma la minoranza annuncia già una nuova richiesta. Botta e risposta a distanza tra il consigliere 3V Angelini e il capogruppo PD Petrucci. Il servizio. La maggioranza consigliare ha fatto saltare la seduta tematica sulla sanità riminese dove era previsto l'intervento degli avvocati dell'Associazione Comilva e di alcuni sanitari sospesi perché non vaccinati. Una ventina di giorni fa il Consiglio aveva discusso il tema alla presenza dei vertici dell'Ausl, dei direttori di ospedale e pronto soccorso e dell'assessore regionale Donini, ma nell'occasione non era stato fatto intervenire il rappresentante dei medici sospesi. Così la minoranza si era adoperata su iniziativa del consigliere 3V Angelini per raccogliere le firme necessarie al nuovo consiglio. Ad un'ora dalla seduta però i capigruppo di maggioranza hanno annunciato la loro assenza. Vuoti anche i banchi della giunta. Fischi e proteste quando la presidente ha annunciato al folto pubblico la mancanza del numero legale. I capigruppo di maggioranza hanno spiegato di non essere disposti a presenziare ad un evento appositamente pensato per fare da cassa di risonanza le teorie 3V e hanno definito il rispettoso verso le sofferenze delle persone confrontarsi sulla sanità col consigliere Angelini che, hanno ricordato, nei giorni scorsi ha giudicato positivo il fatto che i vaccinati si contagino. Dai consiglieri di minoranza, chiamati in causa dalla maggioranza per non aver preso le distanze da Angelini, l'accusa di sottrarsi al confronto, una delle pagine più vergognose della storia politica riminese in calza Gloria Lisi. Ieri sera, saltata la seduta, è andato poi in scena un comizio improvvisato. Le avvisaglie c'erano state da parte della maggioranza che avevano già anticipato che avevano questa intenzione di disertare questo consiglio comunale. È un peccato perché io penso sempre che si deveva fare di tutto per poter ascoltare l'opinione di tutti, la storia di tutti e anche perché no, visto che c'erano dei professionisti, anche il parere autorevole di professionisti esattamente come è successo nel precedente consiglio comunale. Invece di affrontare un qualcosa si è deciso di fuggire e soprattutto di strumentalizzare volutamente delle mie parole, comunque anticipo già che ho già raccolto le firme e ho inoltrato la richiesta per un nuovo consiglio tematico. In un contesto istituzionale bisogna avere fiducia nella scienza, nella provata scienza e non metterla in discussione. Non è che si può ascoltare tutto quello che viene maturato in un contesto di dissenso culturale che è assolutamente minoritario e soprattutto scientificamente smentito. Vero, a norma di Tuell possono continuare a riproporre il loop delle richieste, poi però io posso anche valutare un esposto alla Corte dei Conti perché ogni volta che convocano un consiglio comunale, se noi continuiamo a non presentarci, loro comunque il gettone di presenza lo percepiscono, i dipendenti sono stati giustamente pagati. Le bollette per far funzionare il consiglio comunale ieri sera devono essere pagate. Sul fronte giudiziario invece il giudice del lavoro del Tribunale di Forlì ha rigettato il ricorso di un dipendente amministrativo dell'Ausl Romagna sospeso perché non vaccinato contro il Covid, una sentenza importante per l'azienda sanitaria locale alle prese con altri procedimenti analoghi. Vediamo. Dal 15 dicembre scorso, giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, fino ad oggi è rimasto senza stipendio. Sospeso dall'Ausl Romagna, l'azienda per la quale lavora nel settore amministrativo, con sede nel suo caso al di fuori di una struttura sanitaria perché non vaccinato contro il Covid, una decisione che il dipendente, un cinquantenne romagnolo, ha sempre ritenuto illegittima. Per un motivo, la seda a cui da anni assegnato hanno sostenuto i suoi legali nel ricorso è esclusivamente dedicata all'amministrazione e ospita solo uffici. Non solo non si tratta di un ospedale o di altra struttura protetta, ma all'interno dell'edificio in questione non vi sono né pazienti né degenti. Da qui la decisione del dipendente di presentare il ricorso davanti al giudice del Tribunale di Forlì contro la sospensione e la conseguente richiesta di riammissione in servizio. Il giudice però, dopo aver attentamente analizzato il caso, ieri ha reggettato il ricorso del lavoratore, aderendo alla difesa proposta dai legali dell'Ausl Romagna, le avvocatesse Manila Cecchini e Donatella Villanova. Per un ente che eroga servizi sanitari, si legge nella sentenza, è impossibile tenere del tutto separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni d'ufficio, così come è impossibile mantenere separate le due aree. Inoltre, aggiunge il giudice, distinguere tra sedie e mansioni del personale addetto ad una stessa struttura sanitaria vanificherebbe l'obiettivo del legislatore, proteggere da un lato il personale e dall'altro l'utenza. Il cinquantenne, quindi, salvo ripensamenti su un'eventuale vaccinazione, resterà sospeso fino al 31 dicembre, giorno ultimo di validità, almeno per il momento, dell'obbligo vaccinale. Ora la cronaca. Il personale della divisione anticrimine della questura di Rimini ha dato esecuzione al decreto di sequestro finalizzato alla confisca dei beni emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti di Sergio Arfelli, 71enne nato a Ravenne, residente a Saludecio. Il sequestro ha colpito il patrimonio illecitamente accumulato dall'uomo a partire dal 1972, a fronte delle numerose vicende giudiziarie di cui lo stesso si è reso protagonista sia nella provincia di Rimini che in quella di Forlì. Nel corso della sua cinquantennale carriera criminale, l'uomo ha commesso numerosi reati, alcuni dei quali di particolare allarme sociale, come tentato, omicidio e detenzione d'arma da fuoco, dedicandosi in prevalenza allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale è stato più volte arrestato e condannato e con i cui proventi, come ricostruito nell'istruttoria, ha effettuato numerosi investimenti. In accoglimento della proposta del questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, il Tribunale di Bologna, ai sensi della normativa del codice antimafia, ha disposto il sequestro di alcuni rapporti finanziari di un'auto e cinque immobili ubicati tra le province di Rimini e Peser Urbino per un valore complessivo di 650 mila euro. Scontro frontale nel primo pomeriggio sulla via San Mauro a Bellaria. L'impatto è avvenuto intorno alle 13.30 da visto coinvolti un SUV della Jaguar e una Renault Clio che dopo lo schianto è finita nel fossato a bordo strada, ancora ad appurare l'esatta dinamica. Ad avere la peggio, la passeggera dell'utilitaria, una donna di 48 anni, residente nel Bellariese, che è stata trasportata con il codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Nello stesso ospedale è stato portato però con ferite più lievi anche all'autista della Renault, un 47enne sempre di Bellaria. Si è reso necessario il ricovero anche per l'uomo alla guida del SUV, un cesenate di 56 anni. Sul posto due ambulanti del 118, del soccorso da Ravenna ad occuparsi dei rilievi la polizia locale di Bellaria. Dopo il calo di ieri tornano sopra 4.000 i contagi da Covid in Emilia-Rovagna, dove si registrano però anche tante guarigioni. Dopo il via libera del Ministero partirà nei prossimi giorni la somministrazione delle quinte dosi per anziani e fragili. Vediamo. In provincia di Rimini i contagi oggi sono 268, 18 in più di ieri, mentre in Emilia-Romagna dai 2.786 di ieri balzano a 4.133. I tamponi invece scendono da 25.000 a poco più di 15.000, facendo alzare la percentuale di positività al 27,3%, oltre un tampone su quattro. L'età media dei contagiati resta alta, oltre 53 anni e mezzo. Tante le guarigioni, 3.137. I casi attivi superano i 45.000. Negli ospedali si registra un lieve calo nelle terapie intensive, dove i ricoveri sono 35, due in meno, e un aumento nei reparti, con 35 pazienti in più che portano il totale a 1.057. Due i decessi, due donne di 74 e 83 anni di Ravenna e Bologna. Intanto, nel report settimanale dell'Ausla Romagna, dopo un mese di costante aumento, si registra un'incoraggiante inversione di tendenza, con un calo dei nuovi casi. Parallelamente però aumentano i ricoveri negli ospedali romagnoli, dove comunque il tasso d'occupazione resta contenuto. Al capitolo vaccini è invece arrivato il via libera dal Ministero alla quinta dose per gli over 80, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e gli over 60 con elevata fragilità. Saranno utilizzati i vaccini adattati alle varianti Omicron e la somministrazione potrà avvenire in contemporanea a quella del vaccino anti-influenzale. L'Emilia Romagna è pronta a partire con questo nuovo step in tempi strettissimi. Questa sera alle 20.35 il primo appuntamento della nuova stagione di fuori dall'Aula. Ospite della prima puntata, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, chiamato a tracciare un bilancio del suo primo anno con la fascia tricolore tra i temi affrontati, il car energia, il turismo, la viabilità, gli impianti sportivi e la situazione dell'area dell'ex nuova questura di Viogobassi. E in occasione dell'evento sui 30 anni della fondazione Cassa di Risparmio di Rimini che si è aperto nel tardo pomeriggio, questa mattina è stato fatto il punto su quanto fatto in questi tre decenni per il territorio dalla fondazione. Una realtà ancora pienamente attiva, nonostante la banca da cui è nata non ci sia più e pronta a parlare di sfide per il futuro. 100 milioni distribuiti sul territorio in 30 anni per 3.300 interventi a favore di 920 soggetti privati per il 29% nel settore arte e cultura, per il 28% a sociale e solidarietà, il 26% nell'area educazione e formazione, il 17% nel settore sviluppo e ora per la fondazione Cassa di Risparmio ci sono le sfide per il futuro. L'economista Stefano Zamagni auspica per la fondazione di cui è socio una funzione operativa come aggregatore per la coprogrammazione e coprogettazione territoriale. Il sindaco Sede Golvad nel suo videomessaggio si augura di poter lavorare insieme per il territorio a partire dalla cultura e dalla promozione dell'università, troppo a lungo sottovalutata. La fondazione in questo territorio, in questa comunità intende essere un soggetto forte. Forte vuol dire capace di mettersi a disposizione di tutti, non forte perché è più forte degli altri. In questo senso credo che la sfida che ci viene lanciata è quella di essere un po' il lievito di queste iniziative e anche l'intervento del sindaco di Rimini, che è stato ribadito in più occasioni anche in colloqui privati, è un ulteriore stimolo per fare in modo e maniera di trovare le condizioni perché la fondazione possa fare la sua parte insieme ad altri soggetti che fanno ricco questo territorio e che speriamo possano contribuire a un ulteriore sviluppo di questa parte della Romagna. La fondazione in 30 anni è riuscita ad acquisire i grandi dipinti che si erano dispersi in tutto il mondo, sono tornati a Rimini, è riuscita a restaurare perché tutto quello che era caduto in un cono d'ombra è stato recuperato e riuscita soprattutto a cesellare un territorio che non guardasse solo al mare ma guardando le sue colline, guardando le grandi rocche maratestiane, guardando la Val Marecchia è riuscita a ridefinire proprio il ruolo che una fondazione deve avere non solo nel tempo ma anche in un'ottica futura. Il trentennale sarà celebrato anche con una quadreria a Palazzo Buonadrata di 50 opere della collezione della fondazione finora mai esposte, inaugurazione il 16 novembre. Un'inaugurazione da record per la sala Gran Turismo, il nuovo spazio teatrale di Riccione che occupa interamente il secondo piano del Palazzo del Turismo. Dopo il taglio del nastro della sala, allestiti in appena 20 giorni con un investimento di 40.000 euro, quasi 300 persone hanno raggiunto il secondo piano del palazzo per assistere al primo atto delle celebrazioni del centenario della Perla Verde con la performance L'alfabeto delle emozioni di Stefano Massini. Altri 200 hanno invece assistito allo spettacolo in piazzale Ceccarini dal Maxi Schermo. L'ingresso era libero e non sono mancati i mugugni da parte di chi non è riuscito a trovare posti in sala. Inaugura invece domani alle 18, resterà aperta fino al 6 novembre a Villa Mussolini, la mostra Foto Riccione, l'obiettivo di Pico a cura di Davide Bagnaresi e Gianni Zangheri, un percorso espositivo ad ingresso libero realizzato in occasione del centenario e che attraverso gli scatti del fotografo Epimaco Zangheri, da tutti conosciuto come Pico, racconta la Riccione tra gli anni 50 e gli anni 80. Vediamo. Una comunità in bianco e nero è quella raccontata dagli scatti di Pico per tutti il fotografo di Riccione. Volti, luoghi iconici, personaggi che ripercorrono la storia della città dagli anni 50 agli anni 80, dalle feste patronali al boom del turismo balneare, dal fortunale che nel 64 mise in ginocchio la spiaggia al fenomeno dei saccopelisti. 49 scatti scelti tra le centinaia di migliaia di foto dell'archivio di Pico che a 13 anni iniziò la gavetta come ragazzo di bottega per diventare fotografo professionista e lui stesso, con il suo sorriso riservato e lo sguardo attento ai dettagli, un pezzo importante della storia di Riccione. Beh, io ho cominciato in negozio, quella volta ho avuto la disgrazia che mi ha morto il padre, avevo 5 anni, eravamo tre fratelli, miseria che si... e cosa ho fatto? Che mia madre... se no io avrei fatto il marinaio, come tutta la mia famiglia, solo che cosa è successo? che cercavano i bambini, quella volta i ragazzini, da imparare i mestieri. Io a 12 anni mi ha messo nel negozio lì e ho fatto la bellezza di 70 anni sempre in quel negozio. Più che andavo avanti, più che mi innamoravo di sto lavoro. La sera andavo a fare le fotografie al Savioli, a Villa Alta, a tutti i suoi locali e dirò che da lì piano piano mi si è messo sto lavoro di fotografie nella testa, come fosse chissà cosa. Poi l'importante era quello che di andare a casa, di portare sempre la fotografia. Le foto e mostra fino al 6 novembre a Villa Mussolini testimoniano le trasformazioni di una città in continua evoluzione, ma che continua a essere ancorata alle sue radici. In quegli scatti si percepisce l'amore che dà sempre picco a per Riccione, che oggi festeggia il centenario. Quando uno parla male di Riccione mi viene solo che sto zitto, perché dico pure Riccione per me è stato tutto. Io dirò solo che tanti auguri e spero di vederlo sempre meglio, di vederlo. Quelli che romano perché ho ormai con 93 anni circa. Grazie a tutti.